Salve amici e bentornati nel canale. Andremo insieme alla ricerca della verità, però oggi vi lascerò ancora più dubbi. Guardate. Oltre il 70% degli europei a ritenere che non siamo soli nell'universo. Il 70% degli europei e dei nord americani sono infatti convinti di non essere soli nel creato. Ci sono all'incirca 100 miliardi di stelle nella Via Lattea, cioè all'incirca un miliardo di pianeti simili alla Terra solo nella nostra galassia. E se solo l'1% di questi sia riuscito a sviluppare la vita, potrebbero esserci tra le centomila ed un milione di differenti civiltà da qualche parte nella nostra galassia. Siamo soli nell'universo? Siamo soli nell'universo? Sì, ragazzi. Sì. Siamo soli nell'universo. Ragazzi. Grandi interrogativi. Gli alieni esistono? L'ex funzionario ha anche affermato che gli alieni esistono. Esistono gli extraterrestri, sono stati i perdoni. E' una domanda su cui una buona parte della scienza si sta interrogando. Io penso che la risposta più plausibile oggi sia sì. Esistono gli alieni? Una domanda che ci portiamo dietro da parecchi anni. E io vi dico che gli alieni non esistono. Ci stanno nascondendo la verità. Che andremo a scoprire insieme? Ho rilasciato un'intervista al Cufon. Andatela a trovare. E aprite la vostra mente.